Parliamo oggi della prima macchina che è arrivata in Italia con il cambio Allison è un TX Altano di 14 metri con motore da up 510 cavalli Il Vanul Altano è il primo coach che Allison Transmission fornisce con cambi completamente automatici in Europa in realtà la nostra collaborazione con Vanul per quanto riguarda i coach che vengono esportati in Nord America ha radici molto più indietro nel tempo ma con Vanul abbiamo realizzato questa applicazione il veicolo che vedete alle mie spalle in particolare è il primo in Italia Il Vanul Altano monta la trasmissione Allison completamente automatica T525R è un cambio appunto completamente automatico quindi offre un convertitore di coppia ed è assolutamente power shift quindi tutti i cambi marcia vengono sotto coppia non c'è mai interruzione di cambi marcia questo offre a chi guida e al veicolo e alla flotta la possibilità di prestazioni superiori a qualunque altro tipo di applicazione in particolare una fluidità di cambio marcia che non conosce rivali francamente e credo che tutti sperimenteranno anche il fatto che le performance in generale del veicolo saranno superiori Per quanto riguarda poi in particolare l'applicazione con Vanul, questa applicazione qui di Vanul l'elettronica implementata contiene il massimo della tecnologia per quanto riguarda Allison relativamente alla riduzione di consumi il pacchetto in questione, il pacchetto software in questione presente nel veicolo si chiama FuelSense e FuelSense è il pacchetto in particolare massimo che serve per ottimizzare i consumi del veicolo in qualunque condizioni di lavoro sia in funzione del suo carico sia in funzione della strada che verrà percorsa e dell'inclinazione della strada stessa un veicolo che permette di viaggiare in maniera ottimale anche per i passeggeri perché si divide sulla lunghezza tutti i passeggeri con spazi diciamo maggiori e quindi con una comodità particolare bellezza del cambio e anche la renda ancora più silenziosa anche nella trazione minimizza le vibrazioni che si sentono in genere in coppia quando si richiede la coppia massima dal motore allora il cliente che diciamo ha voluto fare questa avventura del primo veicolo Allison in Italia è la IAS Touring di Rossano provincia di Cosenza è la seconda macchina che lui ha e quindi probabilmente farà confronto di uno e dell'altro che noi diciamo siamo ottimisti in questa macchina io sinceramente che l'ho guidata mi ha dato un'ottima impressione di guida la comodità e la fluidità del veicolo è molto importante ho visto anche nella manovrabilità che la macchina è veramente facile facile da guidare senza sbalzi, senza saltellamenti e anche molto molto silenzioso molti sono i pregiudizi nei confronti dei cambi automatici per quanto riguarda l'aspetto dei consumi in realtà quello che io posso dire è che un cambio completamente automatico proprio in virtù della sua natura power shift offre un'efficienza nell'utilizzo dell'energia e della coppia che io ritengo essere, che noi riteniamo essere superiore a altre tecnologie di cambi in più permette in questo caso grazie alla moltiplica di coppia del convertitore un'ottimizzazione della drive line e quindi regimi motore durante la crociera molto bassi e infine il pacchetto software che Allison ha implementato su questa applicazione è il meglio che possiamo offrire in termini di tecnologia il pacchetto FuelSense che indubbiamente ottimizza i consumi in tutte le circostanze, in tutte le condizioni di duty cycle, ciclo di lavoro del veicolo Grazie a tutti! Grazie a tutti!